bentornato good year bentornata andiamo a vedere una sezione molto importante e corposa di windows 10 è il momento della sezione delle impostazioni cos'è in windows 10 trovi questa sezione dedicata alle impostazioni già presente in windows 8 ma notevolmente più ampia in questa versione è la sezione che probabilmente prenderà il posto del pannello di controllo che è comunque ancora accessibile in questo sistema operativo forse avrei già visto che alcune opzioni del pannello di controllo rimandano alla sezione delle impostazioni qui di seguito spiegata in questa stanza quella delle impostazioni potrai personalizzare il tuo sistema operativo configurarlo cambiarlo adattarlo alle tue necessità come accedi la soluzione più rapida è cliccare sul pulsante start e individuare l'icona ingranaggio che ti proietta in questa sezione appunto cosa vedrai nella nuova finestra una pagina con dei pulsantoni che corrispondono a varie categorie ognuna delle quali presenterà altre sottosezioni in cascata stile struttura ad albero tipo esplora file ci sarà veramente da perderci la testa per quante ce ne sono alcune richiameranno quanto trattato nelle sezioni del pannello di controllo dei precedenti sistemi operativi altre sezioni altre opzioni saranno nuove o leggermente diverse da quelle conosciute nel corso del proseguo dell'attività questa sezione potrebbe anche subire delle implementazioni o riduzioni da parte della microsoft nel momento in cui scrivo le categorie presenti sono sistema dispositivi rete e internet personalizzazione account data ora e lingua accessibilità privacy e aggiornamento e sicurezza la prima sistema ti proietta nella sezione dove poter configurare le impostazioni dello schermo delle notifiche delle applicazioni delle mappe e dell'alimentazione del pc come noterai ogni sezione presenta una moltitudine di altre opzioni la seconda sezione dispositivi ti permette di visionare installare configurare periferiche come stampanti scanner tastiere mouse e dispositivi bluetooth oppure gestire l'autoplay la digitazione e altro ancora rete ed internet invece la sezione dedicata alla rete appunto per poter configurare una rete via cavo senza fili a connessione remota oppure virtuale oppure tramite proxy la quarta sezione ti permette di dare una personalizzazione al desktop nella gestione dei colori dello sfondo della schermata di blocco oppure scegliere il tema i suoni personalizzare il menu start e la barra delle applicazioni la sezione numero 5 quella dell'account ti permette di visionare e selezionare l'account di accesso a windows 10 o in maniera locale o tramite l'account a microsoft ricorda che alcune funzionalità di windows 10 richiedono l'accesso tramite quest'ultimo alcune per poter funzionare altre per essere più complete in questa sezione potrai accedere anche per variare la password oppure il pin oppure l'accesso alla rete aziendale o aggiungere altri utenti al tuo computer la sesta sezione data ora lingua naturalmente ti permette di variare le impostazioni del formato della data dell'ora o della lingua impostare la selezione del microfono oppure l'area geografica la settima sezione accessibilità ti permette di gestire le impostazioni per chi presenta problemi dall'uso della vista come la gestione del mouse della tastiera dei sottotitoli oppure gestire l'assistente vocale l'ottava sezione è abbastanza importante e corposa perché va a gestire la privacy è una sezione molto ampia del sistema operativo e ti permette di raffinare ciò che puoi fornire alla microsoft sia tutte le informazioni nell'utilizzo delle periferiche e dei programmi installati verso la microsoft deciderà entro certi limiti ciò che l'azienda può sapere su di te i contatti programmi impiegati il calendario le varie mail le chiamate che effettuerai i messaggi che invierai la tua posizione e l'utilizzo più generico dei dispositivi e molto altro ancora questo è utile per poter rendere windows 10 anche plasmato alle tue necessità alle tue esigenze l'ultima sezione forse la più importante in quanto detiene le impostazioni per mantenere aggiornato il sistema operativo come il vecchio windows update del pannello di controllo per poter eseguire il backup quindi salvaguardare i dossi dati e le impostazioni del sistema operativo oppure ai noi e fortunatamente porre rimedio ad un eventuale malfunzionamento con un ripristino o parziale o totale inoltre potrai gestire la sicurezza con il programma antivirus installato il windows defender che è integrato in windows 10 e ottenere anche informazioni sullo stato di attivazione del sistema operativo oppure aggiornare il product key se lo cambiassi se sei uno sviluppatore o sperimentatore questa è la tua sezione perché potrai accedere e iscriverti al programma windows insider che ti permette di ottenere in anteprima le novità che gli sviluppatori della microsoft erogano e quindi forniscono al sistema operativo anche per renderti utile nello sviluppo e nel miglioramento del sistema operativo stesso nell'arco dei prossimi mesi tratterò queste sezioni anche se non sarà possibile effettuare una spiegazione dettagliata per ovvie ragioni di quantità delle stesse sezioni uter eccoci in zona pratica per poter accedere alla sezione impostazioni di windows 10 regati sul pulsante start clicca con il pulsante sinistro e individua la sezione ingranaggio puoi anche implementare la visione per una miglior lettura cliccandoci sopra entrerai in questa zona molto corposa che attualmente presenta 9 pulsanti la prima sezione come detto è la sezione del sistema che va a personalizzare le funzionalità del sistema operativo come vedere in termini di applicazioni funzionalità le applicazioni predefinite la gestione delle notifiche alimentazione e sospensione la possibilità di ottenere le mappe offline quindi senza connessione ad internet ed altre impostazioni fino anche alle informazioni relative al sistema operativo in maniera molto rapida la seconda sezione è relativa ai dispositivi che permette di gestire i dispositivi stessi quindi poter aggiungere stampanti o scanner visionare quelli che già sono presenti oppure gestire l'autoplay che in pratica ti permette di attivare o disattivare l'avviene automatico di alcuni programmi oppure nel caso in cui tu inserissi un dvd un disco o una pendrive per poter esplorare il suo contenuto un'altra sezione è relativa a rete ed internet che ti permette quindi di gestire lo stato di connessione ad internet in questo caso come puoi ben vedere manca la connessione ed eventualmente risolvere i problemi relativi alla stessa gestire le impostazioni della rete oltre allo stato quindi la connessione via cavo una connessione via rete o creare una vpn gestire il consumo di dati oppure impostare una connessione automatica tramite proxy altra sezione di personalizzazione è relativa allo schermo quindi potrai gestire lo sfondo i colori dello stesso oppure impostare la schermata di blocco selezionare i contenuti o personalizzare il menu e il pulsante start o la barra delle applicazioni altra sezione quella dell'account che ti permette di gestire le impostazioni con cui accedi al sistema operativo se con account locale oppure con account microsoft e poter comutare l'uno o l'altro oppure poter gestire l'account relativa all'indirizzo mail o l'accesso all'azienda o a un istituto se questo computer fa parte di una rete aziendale o istituzionale poter impostare delle implementazioni al numero di persone che accedono al computer magari in ambito familiare l'altra sezione data ora lingua permette di gestire le impostazioni di data ora lingua area geografica oppure il riconoscimento vocale grazie all'assistente la sezione accessibilità è molto utile a persone che hanno problemi ad utilizzare il pc per problemi alla vista quindi potrai gestire l'assistente vocale che ti permetterà di leggere qualsiasi cosa è presente a video impostare una lente di ingrandimento gestire il contrasto elevato i sottotitoli o impostazioni di tastiera e mouse la sezione privacy molto corposa che ti permette di snocciolare ciò che il sistema operativo viene a memorizzare in termini molto generali oppure di posizione oppure di ogni dispositivo che utilizzi e connesso al computer come puoi vedere snocciolare e raffinare le impostazioni relative alla fotocamera al microfono quindi tutti i programmi che utilizzano fotocamera e microfono le notifiche i contatti e quindi puoi vedere molto ampia e questo ti permette di decidere e selezionare con accuratezza ciò che il sistema operativo può memorizzare e da un lato quindi essere molto più plasmato alle due necessità di contro e informazioni che fornirai più o meno volutamente alla microsoft ultima sezione aggiornamenti sicurezza che è molto utile per poter gestire gli aggiornamenti del sistema operativo ti ricordo che ad oggi non è possibile disattivare gli aggiornamenti del sistema operativo ma soltanto eventualmente ritardarli puoi gestire anche la sicurezza grazie al sistema antivirus windows defender già pre installato nel sistema operativo oppure impostare un backup o nel caso in cui hai la necessità poter ripristinare o reimpostare il sistema operativo in maniera parziale o totale vedere lo stato di attivazione del sistema operativo e entrare in una zona dedicata agli sviluppatori o ancor meglio a chi vuol partecipare al programma windows insider per poter ottenere le informazioni in anteprima aggiornamenti del sistema operativo o ancor meglio poter partecipare per rendere migliore l'esperienza d'uso di windows 10 come puoi notare è una sezione molto corposa che pian piano in parte tratteremo giusto per completezza nella barra delle applicazioni se clicchi con il pulsante destro trovi un pulsante impostazioni che non ti dà accesso a quella sezione principale ma in questo caso specifico alla sezione delle impostazioni della barra delle applicazioni oppure cliccando con il pulsante destro nella sis rei entri nella zona delle impostazioni dedicata all'area notifiche quindi leggermente diversa rispetto a quello che trovi in questa sezione ma impostazioni della barra delle applicazioni della barra notifiche che sono inserite all'interno di questa sezione bene nella prossima lezione avrai nuove informazioni appunto sulla sezione impostazioni di windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima ciao a presto 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 ciao a presto